9, 9, 8, 7, 8, 9, 9, 10 Allora Giacomo, un premio che fa parte del tuo bagaglio sportivo, che impressioni ti porti, che sensazione ti ha dato? Mi ha dato una bella emozione e sono anche felice di averlo ricevuto perché ho fatto questo gesto con amore diciamo e l'ho fatto naturalmente, all'inizio non me l'aspettavo questo premio perché l'ho fatto naturalmente e volevo solo dargli una gioia a questo ragazzo Allora spesso si dice lo sport come scuola di vita ma il rugby ha in sé nel DNA proprio regole che valgono anche al di fuori del campo, insegna molto da questo punto di vista Sicuramente, è un premio prestigioso, un gran riconoscimento per noi e per il nostro lavoro Abbiamo sempre posto attenzione oltre che la parte sportiva a quella diciamo umana a 360 gradi quindi siamo molto contenti Sono ancora più contento perché credo che questo singolo gesto esprima quello che è Giacomo in realtà quindi è andato proprio la persona giusta secondo me Come società sportiva voi fate della promozione anche a livello dei ragazzi, dei giovani, un vostro punto cardine Questo può aiutare ad avvicinare giovani leve a questo sport? Beh lo spero sicuramente, diciamo che effettivamente è stato un gesto quello di Giacomo e si ripete forse più volte L'occasione è stata che è stato ben promosso da noi e dalla stampa e quindi siamo stati per un conto fortunati e spero sia un veicolante per portare altri ragazzini al campo sicuramente Grazie a tutti